Addio figlio, porti con te sogni e speranze, sarà un emarginato, come sarà un dio per loro. E se un bambino sognasse un destino diverso da quello che la società gli ha assegnato? E se aspirasse a qualcosa di più grande? Iguain! Un gol fantastico! Iguain! 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 Un gol speciale! Il noventunesimo! Un gol fabuloso! Iguain! Iguain! Darai agli abitanti della Terra un ideale per combattersi. Si affretteranno a seguirti, vacilleranno, cadranno. Ma col tempo si uniranno a te nella luce. Col tempo li aiuterai a compiere meraviglie. Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi? Cosa significa la S? Non è una S. Nel mio mondo significa speranza. Beh, qui è una S. Che ne dici di... Su? Scusami. Iguaina, la compaziana, Iguaina! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero, Mauri! 36! Nessuno come lui! Ma questo è un film! Ma questo è un film! Non è vero! Non è vero! Un, c'è un film! Sì, Sì, Sì!